Il Signore degli Anelli, Gli Annelli del Potere è una serie del 2022 creata da J.D. Payne e Patrick McKay ed è basata sul romanzo Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien sulle sue appendici ma più in generale su tutto quell'universo narrativo creato da quest'autore. Un autore che è passato alla storia con i suoi romanzi, i suoi racconti, i suoi fantastici personaggi, le sue straordinarie vicende ambientate per l'appunto in questa straordinaria realtà alternativa fantasy regalataci da Tolkien, quest'autore ha creato questo universo. Un universo che qui abbiamo modo di vedere non con quelle storie che sono passate per certi versi un pochettino agli annali della cronaca e che sono divenute così famose anche grazie alle trasposizioni di Peter Jackson, o perché no eventualmente anche alle altre che ci sono state. Questa storia decide di raccontare un qualcosa avvenuto migliaia di anni prima dei titoli più famosi di questo universo, nella fattispecie migliaia di anni prima del Signore dei Anelli. In questo frangente, in questo universo fantasy straordinario, c'è un grande avversario, uno scuro signore chiamato Sauron, erede del titolo se vogliamo di grande oscuro signore da un precedente Morgoth, che è la grande minaccia. Una grande minaccia che è stata apparentemente qualche misura originata, ma c'è qualcuno che non si fida di questa eventuale sconfitta di questo oscuro signore. A chi mi riferisco? A Galadriel, elfo femmina. Per certi versi possiamo definire Galadriel come la protagonista di questa vicenda, complessivamente. Galadriel, dopo aver perso in battaglia qualcuno che gli era molto caro, ha deciso di dedicare la sua vita a dare la caccia a questo oscuro signore. Comincerà quindi una ricerca, una ricerca apparentemente senza fine, nonostante sembrerebbe che la nostra Galadriel forse si sia meritata la pace. Una pace magari in terre lontane, destinate soltanto agli eletti, magari agli elfi per l'appunto. Non rassegnatasi però questa pace, all'apparenza così giustificata, così meritata, Galadriel dedicherà tutta se stessa a dare la caccia per l'appunto a questa grande grande minaccia. In questo frangente, in questo universo però, ci saranno altre figure che compariranno e che guideranno di fatto questa serie. Un altro elfo, grande amico di Galadriel, Elrond. Un elfo che avrà modo di essere inviato il signore degli elfi per poter compiere una missione, una missione che vedrà, che ci mostrerà il mondo dei nani di questo universo. Avremo quindi che cosa? Avremo la possibilità di godere dei rapporti che questo Elrond avrà con il mondo dei nani. Le varie vicissitudini che ci saranno, magari legate a uno straordinario potere, straordinario segreto, che a un certo punto verrà fuori e che potrebbe essere fondamentale, per la salvezza magari, di quegli elfi all'apparenza così straordinari e superiore a tutti gli altri esseri. In questo frangente però, abbiamo la possibilità di conoscere varie personalità, di tutto quanto un universo, se vogliamo, un po' sotterraneo, come appunto quello dei nani. Come è magari quello, caro Durin, Durin IV. Sarà un giorno erede del regno dei nani di casa Doom, per l'appunto. Durin sarà per certi versi un pochettino assieme ad Elrond un ponte, un ponte fra la realtà dei nani, per l'appunto, e quella degli elfi. È un universo in cui ci sono attriti fra queste razze e, a poco a poco, ci saranno eventuali intrighi, da una parte e dall'altra, che auspicabilmente dovrebbero portare a un equilibrio, un equilibrio un po' precario, ma comunque un equilibrio, ma a poco a poco, diciamo, il tutto si renderà, con il tempo, più complesso, in determinati frangenti, pur un po' pericoloso, insomma, qualcosa di molto intrigante. Oltre a questo però, abbiamo anche qualcun altro da andare a vedere. Abbiamo ad esempio, diciamo, degli uomini. Degli uomini, un villaggio di uomini, per esempio possiamo trovare una donna, Bronwyn, questi uomini del sud, minacciati dalle misteriose creature, degli orchi probabilmente. Degli orchi che, poco a poco, guidati da un misterioso signore, un certo Hadar, scopriremo, stanno venendo su, stanno venendo su, e stanno di fatto facendo una grande minaccia per questo popolo. Un popolo che verrà, almeno in parte, se vogliamo, anche perché no, un pochino difeso possiamo dirlo da un elfo, a Rondir, innamorato, lo vediamo da subito questo, di Bronwyn, e quindi avremo un'unione, qualche misura, forse, del mondo degli elfi con quello degli umani. A Rondir, in determinati frangenti, sarà un grande guerriero, che se la vedrà veramente dura, addirittura, a un certo punto verrà sotturata, sotturata e quant'altro, alla fine, fortunatamente, però, ci sarà modo di ricongiungersi con la persona che gli è cara, anche col figlio di questa, sarà fondamentale in realtà, soprattutto in un certo frangente, possiamo dirlo, legato ad una misteriosa chiave che comparirà a un certo punto, ed in generale è questa l'occasione per vedere il lato più umano degli uomini, per l'appunto, questo frangente. D'altro canto, però, abbiamo anche che cosa? Abbiamo altri uomini che verranno su, altri uomini provenienti da luoghi lontani, dal regno di Númenor, che saranno estremamente fondamentali per risolvere, si spera, dei problemi nelle terre del sud, per aiutare magari Galadriel, perché no? Saranno essi anche l'occasione per gettare, chissà, forse delle fondamenta che, se un pochettino sa, intuirà, saranno delle fondamenta fondamentali, per l'appunto, come dice il termine fondamenta, per questo universo narrativo e per il futuro della terra di mezzo, il luogo principale in cui si svolgono di queste vicende. Ci sono però anche degli altri esseri in questo universo, fondamentali. Abbiamo infatti i pelopiede, dei piccoli esseri, dei piedi un pochino più grossi e pelosi del solito, che a un certo punto, con la loro semplicità, il loro vagabondare, incroceranno il proprio cammino con qualcuno piovuto dal cielo. Un misterioso straniero, commemorato, possiamo definirlo così, ricco di potere, questo straniero a un certo punto, perché no? Sarà da capire se sarà una risorsa o un pericolo, soprattutto quando, forse, qualcuno incrocerà il suo cammino. Insomma, fondamentalmente una serie del genere, così ricca di personaggi, così tutto sommato sfaccettati, con una mitologia, torna loro alle spalle, è veramente difficile da sintetizzare, persino in questa prima stagione che è durata su puntate. Una prima stagione che io ho avuto modo di affrontare, dopo aver rivisto, ed essermi rinnamorato nuovamente, anzi ancora di più, di quanto avessi fatto in passato, Il Signore dei Anelli, di Peter Jackson. E poi, successivamente, a stretto giro in realtà con la visione di questa prima stagione, che è andata in onda un paio di anni prima rispetto a questo momento in cui mi sto registrando adesso, ho avuto modo di vedere L'Hobbit nuovamente, trilogia prequel, Il Signore dei Anelli, sempre di Peter Jackson. Insomma, sono fresco fresco di questo universo narrativo. All'epoca ebbi modo di leggere i due romanzi un pochino più famosi, se vogliamo, di questo universo, L'Hobbit e Il Signore dei Anelli, e in tempi recenti mi sono pure letto Il Silmarillion, perché no? Un altro tassello nella mitologia tolkeniana. Non posso però definirmi un super fan, sono un appassionato di quanto ho visto soprattutto. Sono contento di aver avuto modo di leggere alcune di queste opere di questo grande autore. Un grande autore che ha creato un immaginario così vasto che è alla base di questa storia. Una storia che si è scelto di creare in determinati frangenti deviando, questo lo so, dal canone, e in altri frangenti invece cercando di andare incontro a quello che sarà, quello che ho avuto modo di vedere con le varie trasposizioni dei vari lavori di Tolkien. Tante parole ho appena detto, tante parole ho appena detto, ma quindi questa serie mi è piaciuta in questa sua prima stagione? In parte. Ero abbastanza convinto di quello che sarebbe stato un pochettino il mio giudizio in merito a questa serie, prima ancora di cominciare nella visione. L'ho recuperata velocemente questa serie, non con un vero e proprio binge watching, ma comunque a stretto giro, ho avuto modo di recuperare tutte quante queste puntate. E malgrado il mio giudizio sia tutto sommato abbastanza positivo, lo devo dire fin da subito, questa prima stagione di questa serie non mi ha rapito. Mi ha interessato, mi ha divertito, ma soprattutto inizialmente è stato un qualcosa che ho un po' faticato ad accettare e che di fatto mi ha intrattenuto soltanto veramente da un certo punto in poi. Perché ho detto accettare? Perché io sinceramente ho fatto un po' di fatica a comprendere quello che è il target di questa serie in alcuni frangenti. Una produzione del genere che alla fine della sua corsa, se tutto andrà come dovrebbe andare, potrebbe essere la serie più costosa mai fatta, è un qualcosa che secondo me deve essere il più vasto possibile. E quindi è necessario nel suo sviluppo della storia che ci sia sufficiente spazio per tutti quei frangenti che magari uno che già conosce la storia legata ai lavori e alle trapposizioni precedenti magari non ha bisogno di sentirsi ripetere. Ma tutti questi elementi sono necessari per uno spettatore nuovo che secondo me in un progetto così ambizioso tutto sommato deve essere alla base dell'interesse di chi produce questa storia. Questa serie non può essere veramente una serie di elite, una serie per pochi. Anche soltanto per un discorso appunto dei mezzi che vengono utilizzati non lo può essere. E quindi è necessario secondo me in maniera abbastanza strategica, forse prima di ciò che magari è più o meno largamente conosciuto. Quindi in questo senso ho sempre trovato una grande furbata ambientare questa serie, perlomeno nella sua prima stagione, all'inizio, anzi prima dell'inizio, di quelle che sono le dinamiche più famose di questo racconto legato a Tolkien. Questa cosa però, d'altro canto, mi ha fatto ripensare a una cosa che penso ormai da tempo. Certe meraviglie riescono a essere così meravigliose per l'appunto, a volte perché hanno dei limiti. dei limiti anche legati dal semplice fatto che qualcuno non ha raccontato che cosa ha fatto nascere tali cose straordinarie. La magia, per certi versi, rischia un pochettino di andarsi a perdere nel momento in cui abbiamo piena consapevolezza, piena comprensione di come, per l'appunto, qualcosa è nato. Per certi versi, questa serie mi ha ribadito questa cosa. Io non avevo il minimo interesse, in realtà, a vedere un'origine di una storia che un pochino conoscevo. Ed in realtà, io comunque, al netto di essere uno spettatore che sa alcune cose, ma non sa tutte le cose che potrebbe sapere magari, ritengo che questa serie, da un punto di vista, diciamo, quello che non conosce nulla di questo immaginario, è un qualcosa che, soprattutto in certi frangenti, non funziona tanto. Perché, malgrado, secondo me, come ho detto, debba essere questo un progetto destinato a tutti, è questo in realtà un progetto che, in alcuni frangenti, gioca col fatto che lo spettatore dovrebbe sapere certe cose. Ed è un qualcosa che trovo abbastanza inaccettabile. Sinceramente, ho avuto modo di vedere, nel corso delle puntate, a poco a poco, un sempre maggior riferimento che un giocare col riferimento a questo immaginario, oltre ciò che è stato mostrato in queste puntate. E questa cosa, sinceramente, mi ha lasciato un pochettino perplesso e scontento qualora il mio percepito di questa prima stagione fosse il mio primo percepito in assoluto di questo universo. D'altro canto, ci sono sicuramente degli elementi che sono indubbiamente percepibili come notevoli quando andiamo a vedere, ad esempio, quella che è la componente estetica di questa serie. L'Anelli del Potere è probabilmente l'apice visivo che abbiamo avuto modo di vedere finora, nel panorama televisivo. È un qualcosa in determinati frangenti di estremamente suggestivo. Probabilmente, rispetto a certe produzioni molto blasonate, ancora non arriviamo a un livello pienamente cinematografico. Però, d'altro canto, davvero il colpo d'occhio è importante, soprattutto in alcuni frangenti. Magari all'inizio di questa stagione, di questa serie, quando vediamo questa meraviglia. Questa meraviglia legata al mondo degli elfi, al mondo dei nani, ma anche, in generale, tutto quello che è l'elemento fisico, possiamo definirlo così, è un qualcosa che, con i costumi, le oggettistiche, rucca parucca e quant'altro, riesce veramente a colpire lo spettatore. E lo colpisce, secondo me, in maniera alquanto positiva. Personalmente, non sono rimasto super rapito da quello che è l'elemento acustico, musicale di questa serie. La colonna sonora, figlia, così come lo è l'estetica, un pochettino di alcune cose, per l'appunto delle trasposizioni precedenti di questo universo, non è proprio riuscita a entrarmi nel cuore, così come le colonne sonore delle trilogie di Peter Jackson. Però, andare a fare costantemente dei raffronti, credo che sia un qualcosa di sbagliato, quando vediamo un prodotto del genere. Perché? Perché malgrado un certo tipo di immaginario sia quello che si scelga deliberatamente di andare ad attingere quell'immaginario, a quell'estetica magari, anche ricorrendo a consulti e non solo con chi ha curato le proiezioni passate, comunque questo è un progetto che deve reggersi da solo. E lo fa magari con che cosa? Lo fa con gli elementi magari più, possiamo dirlo, originali, siccome comunque ci sono delle originalità in questa storia. Delle originalità che sono, ad esempio, delle origini per certi versi un pochettino apocrife, almeno secondo il canone, il canone tolkeniano. Delle origini che qui vengono mostrate per alcuni personaggi in maniera a tratti affascinante, intrigante, a tratti, secondo me, un po' da compitino a base di easter eggs e quant'altro. Mi riferisco a certe location, mi riferisco a certi personaggi ovviamente, mi riferisco magari anche soltanto a certi oggetti che a poco a poco vengono fuori, più o meno, addirittura, a mio avviso forse, malgrado il titolo, lo sviluppo per riguardo a questa serie, un po' troppo presto, quando in generale, forse, se ci fosse stato un andamento un pochettino più calmo, si sarebbe avuto modo di far gustare maggiormente questo mondo. Un mondo in cui è possibile vedere il bene e il male e ciò che ne sta di mezzo. In questo frangente abbiamo avuto modo di vedere ad esempio delle persone, delle creature, messe in difficoltà dall'oscurità e che magari sono divenute serie oscuri. Un'oscurità perfetta, oppure un'oscurità, se vogliamo, meno perfetta, ma ancora più insidiosa, che sta al centro, per certi versi, di questa serie. Una serie in cui, come ho detto, ci sono veramente tantissimi personaggi, non li sto a citare tutti perché non è proprio il caso, però a gira che ti rigira ci sono alcuni che rimangono il cuo pulsante, secondo me, di questa narrazione e su cui si concentra di fatti l'inizio, centro ovviamente, e soprattutto il finire di questa stagione. Partiamo dallo straniero. Questo essere venuto dal nulla, dal grande potere, è così misterioso. Così misterioso, così pericoloso forse. Questo personaggio, per certi versi, è quello che mi ha lasciato più scontento nel finale di questa stagione. Adesso parlerò un pochettino di come è andato a finire, per l'appunto, questo ciclo. Perché questo? Perché c'è stato un twist, un multiplo twist, in realtà, legato a questo personaggio. Un personaggio che possiamo identificare, alla fine di questa storia, molto probabilmente come un personaggio noto ai fan delle trilogie di Peter Jackson, ed eventualmente, se non quel personaggio, quell'altro. Un po' più bianco, diciamo. Però più probabilmente stiamo parlando di un omino grigio quando vediamo questa storia. Questa cosa qui, che inizialmente è stata manipolata, ma in realtà è ancora più subdola, se vogliamo, una certa manipolazione che c'è stata nel corso di questa stagione, è una cosa che mi ha lasciato un pochettino perplesso, che mi avrebbe davvero spiazzato se non fosse che in realtà un certo segreto, purtroppo, non avendo visto la serie quando uscì, io lo sapevo già, purtroppo mi era stato spoilerato. E quindi, salvo un piccolo momento di sussulto, un certo colpo di scena che si voleva dare all'inizio, nell'ultimo tassello di questa prima stagione, è un qualcosa che su di me purtroppo non ha attecchito. Andiamo poi a quelli che sono i personaggi collegati a questo straniero. I pelopiedi, nella fattispecie Nori, principalmente. La pelopiede più di cuore che abbiamo avuto modo di vedere e che comincerà un viaggio, un viaggio inaspettato, più o meno. Un viaggio assieme a quest'uomo con la barba, che avrà modo di ricordare, almeno in parte, chi è, chissà forse anche perché è arrivato su questo mondo, e comincia questo viaggio. Un viaggio che ci porterà lontano, auspicabilmente, in un luogo che darà la possibilità al nostro di riaversi completamente. Abbiamo poi il mondo degli elfi. Il mondo degli elfi che, per certi versi possiamo dirlo, è quello principale in questo universo, in questo universo, in questa prima stagione. Abbiamo Elrond, quest'elfo che riesce a essere sempre nobile, è fedele al suo mondo e ai suoi amici. Bellissimi sono i momenti con Durin, perché no, anche con la famiglia di Durin, magari con la moglie. Una moglie molto tosta, abbiamo avuto modo di vedere soprattutto al termine della stagione, ed Elrond è un personaggio che ho molto apprezzato. Molto apprezzato proprio per questa sua rettitudine, se vogliamo. Una rettitudine in determinati frangenti molto sofferta, che lo mette inevitabilmente in difficoltà. Magari Elrond avrà la possibilità di scoprire certe cose nel corso della storia, dovrà, per coscienza, evitare di spifferarle qua e là, e alla fine anche di questa stagione, una certa consapevolezza, comunque, rimarrà custodita in lui per via dell'affetto che prova, per quello che possiamo dirlo, è la protagonista, tutto sommato. Una protagonista che ha viaggiato tanto, ha incrociato la sua strada con tanti personaggi, con un uomo in zattera, Albrand, che avrà modo di conoscere, di riconoscere come un re delle terre del sud, e andando avanti ha incrociato la sua strada con tante persone, magari con quei numeroliani, con più o meno contatti elfici che la seguiranno, e che in realtà andranno incontro, fra l'altro, a un grave tormento e una grave perdita, a tante grave perdite, magari. Siano esse fisiche, siano esse in realtà dei veri e propri personaggi, che magari abbiamo avuto modo di conoscere nel corso di questa stagione. Mi riferisco inevitabilmente a Isildur, un giovane figlio di Elendil, capo, vogliamo militare, Numnar, che è venuto meno nelle ultime battute di questa stagione. È un qualcosa di sofferto quello in cui si immerge sempre Galadriel, un qualcosa di sofferto che di fatto è giustificato soltanto dalla sua voglia di arrivare a questo oscuro signore, questo Sauron, che l'ha privata di tanto, l'ha privata di questo fratello, così fondamentale per il suo sviluppo e la sua crescita. Lei ha sempre con sé un qualcosa di questo fratello che lo va a ricordare, che vorrebbe utilizzare, anche per, se vogliamo convogliare la sua oscurità, perché c'è dell'oscurità in lei e questo sarà un frangente fondamentale, soprattutto quando a un certo punto la nostra Galadriel magari, almeno in parte, si legherà con qualcuno che l'è vicino, che l'è stato vicino molto a lungo e che alla fine si rivelerà essere qualcuno che non si aspettava. Ma io purtroppo lo sapevo, adesso parto col mega spoiler eccetera, purtroppo sapevo fin da subito che Albrand era Sauron. Che tristezza. Che tristezza perché? Perché oggigiorno sapere una cosa del genere taglia di fatto in maniera importante le gambe a questa stagione. Perché questo? Perché noti un sacco di cose. Puoi notarle volendo anche nel corso della visione senza sapere questa informazione. Però gira che ti rigira. È un qualcosa quello che ho avuto modo di vedere andando avanti nel corso della serie, per certi versi sempre abbastanza depotenziato. Perché? Perché sapere un elemento del genere, sapere il grande colpo di scena da non conoscitore così approfondito delle opere di Tolkien è stato un qualcosa che mi ha privato per l'appunto di un qualcosa che avrei voluto vedere, che avrei voluto avere. Cioè il twist legato per l'appunto a questo più o meno interesse che a un certo punto abbiamo modo di percepire come tale tra Galadriel e quest'uomo che si rivelerà essere per l'appunto un qualcuno di assolutamente oscuro, manipolatorio, che di fatto è stato colui che abbiamo cercato un po' per tutta la stagione. In alcuni frangenti magari manco sapevamo di doverlo cercare, però gira che ti rigira, andando avanti nel corso della stagione, nel corso dello sviluppo di questa stagione, era ipotizzabile che ci sarebbe stato un twist legato a chi era chi. Si è cercato forse di sviare all'inizio dell'ultima puntata con il twist dello straniero che poteva essere Lord Sauron, ma così non è stato. Così non è stato e in realtà, molto velocemente, bisogna dire, l'identità di questo Sauron è venuta fuori. È l'ultimo frangente. Un ultimo frangente che per certi versi ho tanto apprezzato, così come ho apprezzato soprattutto l'ultimo frangente di questa stagione, tanto che il primo in realtà era un qualcosa che proprio non riusciva a entrarmi nelle corde. Chissà, forse il mio problema è stato legato principalmente a Galadriel, interpretata da Morfield Clark. Questa Galadriel è un personaggio che all'inizio davvero non sono riuscito a tollerare. Perché questo? Perché l'interpretazione non mi trasmetteva nulla. E gira che ti rigira soltanto nelle battute più avanzate, anche finali di questa stagione, ho avuto modo di percepire veramente un qualche cosa. In determinati frangenti? Anche in maniera discreta, andando avanti nel corso della stagione. però davvero percepire tutto, tutto, tutto come un costante prologo è un qualcosa che secondo me taglia le gambe a questa serie. Taglia le gambe a questa serie perché? Perché deve esserci un senso di soddisfazione, secondo me, a mano a mano che la storia va avanti per chiunque. Per lo spettatore un po' più acculturato, se vogliamo, e per uno spettatore invece che non sa nulla di queste cose. È una serie questa, secondo me, che gioca un pochettino con lo spettatore in alcuni frangenti, ma in essi, a volte un pochettino, va a perdere che cosa? Va a perdere la, fra virgolette, semplice storia che dovrebbe essere accessibile al tempo stesso. Il pubblico è dotto e il pubblico invece che guarda per la prima volta questo immaginario. E questo è un po' un peccato. È un po' peccato perché il regia che ti regia quindi questa serie, almeno fino a questo momento, per me, è stato un qualcosa di sì positivo, ma di molto più modesto, in alcuni frangenti, rispetto a quello che avrei voluto che fosse, magari. Avrei sperato che sarebbe stata. Peccato. Ma ciò non di meno, comunque. Al netto di tutte queste considerazioni, molto noiose che posso aver detto come al solito quant'altro, è comunque un prodotto che ha tanta ambizione e ha tanti mezzi, ovviamente. E sinceramente, malgrado non mi possa dire, rapito da quanto ho avuto modo di vedere in questa prima stagione, sono convinto che ci siano alcuni elementi che possono valere. Per chi conosce già qualcosa, per chi non conosce nulla, e al termine di questa stagione, siccome comunque siamo trovato abbastanza soddisfatto da quanto mostratomi, GKT gira la speranza di proseguire la visione e di godere la prossima stagione che arriverà e delle successive, tutto sommato c'è. Spero che lo sviluppo ulteriore di questa serie possa essere più, vogliamo onesto e meno, attivarsi un pochettino contorto, perché continuare a fare dei rigiri un pochettino contorti quando sia come, vogliamo, bersaglio pubblico più erudito, è un qualcosa che rischia, secondo me in maniera molto importante, di andare a rendere più spiacevole, o quantomeno meno piacevole, un qualcosa che, nella sua semplicità possiamo dirlo, può comunque essere un qualcosa di cui godere. Insomma, dopo tantissime parole, GKT gira, il Signore dei Anelli, l'Anelli del Potere, con la sua prima stagione, è un qualcosa che non mi ha colpito del tutto, che mi ha interessato, di cui sono relativamente curioso di vedere la prosecuzione, è riuscito a prendermi un pochettino di più a mano a mano che la sua storia è andata avanti e, nel momento in cui, finalmente, più o meno tutte le carte sono state mostrate, allora sì, in quel momento ho deciso che il mio giudizio complessivo su questa prima tornata era positivo e spero davvero, col proseguire di questa epopea, di poter dire altrettanto, in maniera ancora più accalorata e positiva, quando verrà la prosecuzione di questa serie. Una serie che ha sulle spalle un grosso fardello e che sarò curioso di vedere come, eventualmente, esso verrà sostenuto, nel bene o, perché no, nel male. Grazie a tutti.